Un corriere di 37 anni è rimasto vittima di una rapina in via Pico della Mirandola a Canicatì. Il giovane, dopo aver effettuato una consegna, è stato avvicinato da due ragazzi a bordo di un ciclomotore, i quali, brandendo un coltello, lo hanno minacciato, costringendolo ad aprire i portelli del furgone utilizzato per la sua attività, facendosi consegnare un contenitore con all'interno 31 pacchi di piccole dimensioni. Il corriere, una volta che i due rapinatori si sono dileguati, ha subito chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i quali hanno raccolto la testimonianza dell'impiegato dell'azienda di trasporti, per poi avviare le ricerche dei due malviventi. Purtroppo i due autori della rapina sembravano spariti nel nulla, visto che non è stato possibile rintracciarli nell'immediato. Un aiuto potrebbe arrivare da eventuali filmati registrati dalle telecamere degli impianti di sorveglianza presenti in città e anche installati all'esterno di attività commerciali e altre strutture. Da capire anche se i due rapinatori cercassero proprio il contenitore rubato, effettuando quindi un colpo mirato.